Dibattito sul Super Green Pass, a margine dell'ultimo Consiglio regionale, più di 200.000 toscani non sono ancora vaccinati. Governo del territorio cambia la legge approvati gli adeguamenti normativi su pianificazione e permessi a costruire. Buonasera, ben ritrovati a Monitor Consiglio. Si è parlato ed era inevitabile anche del Super Green Pass nel corso dell'ultima seduta del Consiglio regionale della Toscana di martedì scorso. Il Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha definito il Super Green Pass un modo gentile per chiedere a tutti di vaccinarsi. Più di 200.000 toscani, ha ricordato Mazzeo, non sono ancora vaccinati. Sentiamo che cosa hanno dichiarato martedì scorso i rappresentanti dei gruppi politici. I dati di confronto anche con gli altri paesi europei ci dimostrano come i paesi che hanno una percentuale anche poco più bassa di vaccinazione rispetto a quella italiana sono già in una situazione di assoluta difficoltà. Quindi questo vuol dire che recuperare anche pochi punti e quindi poche migliaia di persone vaccinate può voler dire evitare nuove chiusure e acuitizzarsi della situazione degli ospedali. Quindi intanto le terze dosi velocemente. Oggi la Toscana ha già riaperto alla terza dose dopo cinque mesi e questo è il primo elemento. Dopodiché tutte le misure che portano le persone a decidersi di vaccinarsi sono assolutamente necessarie perché sono quelle che anche se spostano qualche percentuale di vaccinati possono evitare nuove chiusure e difficoltà negli ospedali oltre che le morti. Quindi siamo assolutamente d'accordo. È un provvedimento al quale nessun governo vorrebbe mai arrivare e nemmeno noi lo vogliamo. Voglio ricordare un aspetto che l'Italia è oggi uno dei paesi nelle migliori condizioni per quanto riguarda la quarta ondata che ha colpito l'Europa e non solo. Mentre paesi come la Germania e la Danimarca stanno affrontando un'emergenza veramente grave con terapie intensive piene e soprattutto con un'ondata di morti di nuovo senza precedenti. Quindi quello che secondo me deve essere importante è l'appello che continuo a fare a coloro che hanno ancora dei dubbi sulla vaccinazione, di andare a vaccinarsi, di avere fiducia nella scienza medica che ha portato veramente l'umanità a momenti di benessere veramente notevoli. Quindi l'appello è questo e cerchiamo di essere innanzitutto responsabili per noi stessi, per i nostri cari e per l'intera comunità. È questo il momento in cui dobbiamo dimostrare di essere un paese unito. Penso che se ad un anno di distanza siamo ancora a parlare di ipotesi di lockdown, di regioni che possono cambiare colore, di limitazioni ai cenoni di Capodanno, di luminarie da accendere una settimana prima per vedere se qualcuno pensa che Natale quest'anno venga il 14 e non il 25, evidentemente qualcosa è andato storto e questo strumento, questo Green Pass introdotto perché sarebbe dovuto essere la panacea a tutti i mali, evidentemente non ha funzionato come doveva funzionare. Quindi oggi arrivare a parlare di una sua estensione mi sembra un controsenso. Il Green Pass ce l'hanno venduto come uno strumento che sarebbe servito al contenimento della pandemia, in realtà era soltanto un incentivo, un obbligo vaccinale nascosto, un incentivo a vaccinarsi. Abbiamo raggiunto un numero di cittadini ormai vaccinati in Toscana addirittura l'85%, a livello nazionale un po' sotto l'80%. Chi oggi non si è vaccinato è uno zoccolo duro di cittadini che ormai hanno deciso, scelto, di non vaccinarsi. E se tu, Governo nazionale, vuoi arrivare a questo zoccolo duro di ultimi resistenti, è inutile che tu introduca il Super Green Pass. Fai, abbi un gesto di coraggio, assumeti le tue responsabilità, caro Governo, e introduci l'obbligo vaccinale. Obbligali alla vaccinazione, altrimenti loro non si vaccinano. Il ricatto, prendere le persone per ricattandole sul lavoro, ricattandole sulla fame, prendendoli per fame, andando a minacciare di non farli lavorare, credo sia soltanto un qualcosa di estremamente vigliacco, cioè un volersi nascondere e volersi sottrarre alle proprie responsabilità. Green Pass di per sé è un mezzo, cioè non è un qualche cosa che è fine a se stesso. Il Green Pass è servito, servirà, per poter permettere alla gente di facilitarne la vaccinazione. Io sono un medico, per cui credo che i vaccini li abbiamo studiati in medicina da sempre e sono un caposaldo della sanità, della medicina stessa. Hanno eradicato delle malattie assolutamente che hanno omietuto nei secoli centinaia, migliaia di morti. Per cui benvenga il Green Pass se a un certo momento questo Green Pass può essere il veicolo per una vaccinazione che da sola non è sufficiente, ma che comunque può in qualche modo permettere l'eradicazione o quantomeno l'abbassamento del tasso di contagiosità. Ovviamente va accompagnata tutte quelle attenzioni che noi dobbiamo avere nel distanziamento, nel lavarsi le mani, nell'usare i gel disinfettanti, perché quando si parla che il vaccino ha una riduzione della contagiosità del 90% oppure l'85%, si parte sempre da un presupposto a parità di sanificazione della nostra persona. Per cui, ripeto, il Green Pass è un falso problema. È un falso problema perché l'importante è la vaccinazione. È ovvio che bisogna non eccedere in una ossessiva ricerca della vaccinazione, ma è importante che si faccia la vaccinazione. Io personalmente da medico non capisco i miei colleghi medici che non vogliono vaccinarsi. Quindi, ripeto, ben venga la vaccinazione, assolutamente, ben venga il Green Pass. Io da sanitario ho già fatto la terza dose, esorto le persone a farlo. Sì, serve una stretta ulteriore, non si può più essere tolleranti. La tolleranza nei confronti di coloro che non sono tolleranti non è più accettabile. Quindi noi dobbiamo andare su una misura molto rigida rispetto a un Green Pass che viene concesso solamente vaccinati. Ho detto io, ho fatto una proposta per iniziare ad andare in quella direzione a coloro che sono in procinto di farlo. Magari una prenotazione per un Green Pass e un tampone ancora puoi tenere in piedi un Green Pass, ma sono questioni di giorni. Oggi il portale è aperto, si può fare vaccinazioni per le terze dosi, si possono fare ovviamente per le prime e per le seconde, non ci sono più scuse, bisogna andare sui vaccini, altrimenti non c'è alternativa all'obbligatorietà. Ancora possiamo arrivare su questa strada, ma l'inverno incombe e credo che i dati ci dimostrano che il pericolo di un'ulteriore ondata sia veramente evidente. Quindi su questo non possiamo più tollerare una misura leggera e dobbiamo agire con grande fermezza. Rimaniamo in tema di sanità. Il consigliere leghista e portavoce dell'opposizione, Marco Landi, ha presentato un'interrogazione all'assessore alla salute Simone Bezzini sui tempi di attesa per le visite specialistiche. L'assessore ha spiegato che negli ultimi mesi si è registrata un'impennata di prescrizioni di visite e prestazioni specialistiche con un incremento pari al 25% rispetto al 2019, un incremento mai visto. E le ASL, ha detto l'assessore, stanno cercando di fare fronte a questa situazione. Sentiamo che cosa ha dichiarato il consigliere Landi. Abbiamo numerosissime segnalazioni da parte dei cittadini che arrivano nei nostri uffici ma che leggiamo anche dalla stampa e quindi tutte le segnalazioni che arrivano alle redazioni e che poi leggiamo sui giornali. Chiaramente abbiamo fatto delle domande specifiche all'assessore alle quali purtroppo non abbiamo avuto risposta. Si cerca di minimizzare un problema che in realtà è reale, che c'è. Le liste di attesa per le prestazioni ambulatoriali, diagnostiche, chirurgiche sono un problema reale. Addirittura si parla di 4 cittadini su 10 che si rivolgono a strutture private perché le liste di attesa sono troppo lunghe. Serve da questo punto di vista un cambio di passo, una nuova pianificazione, un intervento importante e l'assessore Bezzini da questo punto di vista sui dati non ci ha assolutamente rassicurato. Cambiamo argomento. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza l'adeguamento normativo sulla legge numero 65 del 2014 riferita al governo del territorio e sulla 31 del 2020 riferita alla pianificazione territoriale. Il provvedimento è passato con i voti a favore di PD e Italia Viva, le astensioni di Lega e Fratelli d'Italia e i voti contrari di Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Tra le più significative modifiche introdotte dalla legge, la proroga del piano operativo dei comuni da tre a cinque anni. Una nuova formulazione degli interventi sottoposti al permesso a costruire, fra cui gli interventi di ristrutturazione edilizia e il dimezzamento dei tempi di attesa per l'autorizzazione sismica. Sentiamo le interviste. Una modifica importante a legge Marzon che entra nel merito, c'è stato riconosciuto dall'Aula il merito di questa battaglia, ce lo prendiamo volentieri. Ovviamente l'abbiamo condiviso con altre forze politiche, però modificare la legge Marzon è un dovere. Oggi abbiamo agito su una quarantina di articoli che la migliorano, la semplificano, vanno nella direzione con la quale ci eravamo proposti in campagna elettorale allo stesso tempo. Nei prossime ore mi aspetto che ci sia un ulteriore scatto in avanti rispetto all'approvazione di un ulteriore step, che è quello che noi abbiamo depositato, che eliminerebbe la doppio livello di programmazione, non ci sarebbe più piano strutturale e piano operativo, ma solamente un unico strumento. Se riusciamo a fare queste due grandi modifiche che erano previste nel nostro programma elettorale, da qui a fine anno mettiamo la Toscana nelle condizioni di intercettare la ripresa economica con degli strumenti urbanistici completamente nuovi, che era una parte saliente del nostro programma. Con la proposta di legge numero 59 la Regione si adegua al decreto 76-2020 del Governo che si è 100-110% siano effettivamente realizzabili. Si tratta infatti di introdurre una serie di modifiche alla legge 65-14 sulle tolleranze sulle altezze, introducendo dei criteri di flessibilità e anche di speditezza di procedimenti amministrativi, favorendo quindi il lavoro dei tecnici, cosa che veniva chiesta da diversi anni e che grazie al bonus 110% e alla mole di lavoro che ha scatenato ha reso assolutamente necessario. In più adeguiamo le norme anche a una sentenza della Corte Costituzionale che aveva dichiarato illegittimi due articoli, mi sembra, della legge regionale toscana. Intanto sulla Pdl 59 voteremo articolo per articolo proprio perché è l'ennesima modifica alla legge 65, questa volta molto significativa, però c'è ancora qualche lato che a noi non ci convince. Detto questo bisogna rilevare che il Pd dopo sette anni ha deciso di sconfessare l'ex assessore Marzon portando delle modifiche che sono veramente sostanziali e che disconoscono la razza con cui quella legge era stata votata nel 2014. Oltretutto in Commissione abbiamo anche cassato i primi due articoli di questa modifica che vedevano che il Consiglio venisse praticamente svuotato delle sue competenze passando i piani speciali tutti alla Giunta. Quindi devo dire che il Pd in Consiglio si è fatto valere questa volta, ma è bene, deve essere un segnale per la Giunta perché ricordiamo che il Consiglio ha la potestà legislativa e non può essergli impedita certo da una legge che arriva da qualche assessore. Le modifiche sono interessanti, sono volte a recupero, cosa che noi diciamo da sempre, quello che c'è va recuperato anche perché ci sono molte aree che sono degradate in Toscana e va però anche a toccare delle tematiche che secondo noi avevano bisogno di un passaggio dalla Seconda Commissione perché quando si parla di agriturismi e c'è una legge in discussione in Seconda Commissione, una nuova legge, un'altra legge ancora e ce n'è una presentata dalla Lega che andrà in discussione a breve, forse era bene cercare di capire qual era la soluzione migliore, altrimenti rischiamo di fare solo confusione. Quindi io credo che ci sia un po' di scollamento nel Pd in questo momento perché vediamo che la Giunta presenta le cose, il suo Consiglio gli boccia gli articoli e vediamo che le Commissioni non parlano tra di loro, quindi un problema politico lo rileviamo, rileviamo però che finalmente, come diceva già il centro-destra nel 2014, la legge Marson, se sono resi conto anche al centro-sinistra, che non poteva funzionare e l'hanno totalmente stravolta. La legge Marson è stata definita in tutta Italia come una delle leggi sul governo del territorio e del paesaggio migliori e se anche è vero che potrebbe essere rimodulata e aggiornata ai tempi di oggi, certo non meritava che venisse smantellata così come è avvenuto, perché di fatto se all'interno di alcuni articoli si può vedere un effettivo alleggerimento e semplificazioni riguardo la burocrazia e alleggerimento economico riguardo alcuni oneri, alcuni altri come il passare dai 3 ai 5 anni oppure alzare i livelli di tolleranza ci dicono chiaramente che stiamo andando verso una deregulation, ecco è quello che hanno contrastato anche associazioni come CGL, come è stato denunciato anche dall'Egambiente, tutto questo non è stato però preso in considerazione non soltanto dalla maggioranza ma anche dalle altre opposizioni. Ecco in un momento in cui il PNRR parla di transizione ecologica, gestione e tutela dell'ambiente soprattutto, in un momento in cui il discesso idrogeologico è un problema gravissimo per i cambiamenti climatici, credo che si stia aprendo una breccia molto pericolosa in un territorio fragile come quello toscano. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.